Accedenti a voi, Bambu-Curt! Allianza! Per quanto allora vediamo di tappare questi mucchi? Uncidine! Poi, mi sono divertito, ma il mio biglietto di ritorno... Giusto! Ora che finalmente è tutto a posto, ti porteremo dove vuoi e quando vuoi. Ma dopo un riposino! Per ora, posso portarvi solo fino alla capitale culinaria dell'intero universo! Neon City! Nachos!